Casa Marianna, affittasi per brevi periodi in via Mormino Penna a Scigli, proprio di fronte al commissariato di Vigata, ufficio del famoso Mantalbano. Ideale per viaggiatori che si vogliono sentire ospiti e non turisti, nel cuore di una Sicilia unica, piena di cultura, spiagge dorata e storia. Il tutto a prezzi contenuti.